Ecco le farfalle della solidarietà, un piccolo pelusce ripieno di ovetti, di cioccolato per ricordare chi ha grosse difficoltà a muoversi, chi soffre di distrofia muscolare. È questo il segno che da tempo decora la campagna nazionale dell'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, UILDM. Un'iniziativa per tornare a sensibilizzare più persone possibili sui temi della disabilità, delle barriere architettoniche, dell'inclusione scolastica e della ricerca verso una malattia per la quale non esiste ancora una cura. Lo scopo più apparente è quello comunque di avere delle risorse da destinare in particolare all'assistenza a questo tipo di famiglie, a questo tipo di ammalati. Poi anche per la ricerca, questo è lo scopo più apparente. Ma però sotto sotto quello più importante è quello di tenere viva l'attenzione della pubblica opinione sul problema della disabilità, che in alcuni casi è di una gravità inaudita. Ci sembra che proprio in questo momento in cui il paese è in crisi ci sia la necessità proprio di tenere viva questa attenzione, perché le famiglie più debili sono queste. Dal vostro punto di vista è un punto di vista privilegiato per queste problematiche, le problematiche della disabilità. Ecco, che cosa chiedete oltre alla ricerca, alla raccolta di fondi, ma a livello proprio gestionale, organizzativo, anche alla luce di questa crisi che stiamo vivendo? Beh, noi chiediamo due cose. Prima di tutto noi siamo, oltre che essere una selezione di volontariato, siamo un centro accreditato della Regione Veneto, che quindi fa assistenza sanitaria. Noi facciamo delle prestazioni di fisio-crisi-terapia, logopedia, prestazioni infermieristiche a questi pazienti molto, molto, molto gravi. Ne abbiamo 50 che sono addirittura in ventilazione meccanica assistita, quindi con i respiratori. Beh, diciamo che chiediamo che se si debbono fare di tali nella sanità, si stia ben attenti anche alle fasce più debili che sono queste. Noi non stiamo difendendo un piccolo orticello nostro, stiamo difendendo una causa che riteniamo sia giusta, perché poi le famiglie più fortunate sono quelle che non hanno malati, quelle più sfortunate sono quelle che hanno malati e noi dovremmo avere la sensibilità di guardare queste persone. Grazie.